Nicola della Corina, Formula Ambiente, che cosa significa avere un'isola ecologica in una zona molto turistica? Noi qui stiamo partendo con il sistema di domiciliare porta a porta, quindi abbiamo tolto i bidoni dalla strada. Questa isola serve soprattutto nel periodo turistico per permettere al cittadino o al turista che viene in una casa per poco tempo di conferire il proprio rifiuto senza aver bisogno di rispettare il calendario e gli orari. Perché sappiamo che la raccolta domiciliare ha bisogno del rispetto dei giorni di conferimento e può capitare che in periodi turistici ci siano invece esigenze diverse. Questo contribuisce sensibilmente a migliorare il livello di qualità del servizio di igiene urbana, a raggiungere gli obiettivi previsti dall'amministrazione comunale. Noi nella zona di Montesilvano Colle siamo circa all'80% di raccolta differenziata e su base territoriale questo nuovo tipo di raccolta ci ha permesso nel 2017 di passare dal 21% al 30% di raccolta differenziata. Stiamo cercando di partire con grandi difficoltà come avviene purtroppo dovunque si passa nella raccolta porta a porta. Questo container che è un'isola ecologica praticamente viene donato alla zona per consentire di potersi disfare di quei piccoli rifiuti che magari non si può aspettare per buttarli. Potranno conferirvi tutti perché comunque c'è una telecamera e bisogna accedervi con la tessera sanitaria. Però per consentire soprattutto ai turisti se vengono e devono stare pochi giorni non possono aspettare di disfarsi di tutti i rifiuti, possono comodamente utilizzarla per riporre i rifiuti prima di andare via.